Sei residente in Puglia? Sei stanco di lavorare per altri? Oppure puoi crearti autonomamente un impiego ma non disponi delle garanzie bancarie necessarie per un prestito? Se per il tuo investimento ti occorrono tra i 50 e i 150 mila euro, ho la soluzione adatta a te. Si chiama NIDI ed è la misura agevolativa che, nonostante la semplificata apparenza della redazione della domanda, senza l'aiuto di un esperto, nella maggior parte dei casi, potresti ottenere una brutta delusione spesso solo per banali errori di compilazione. Contattaci e richiedi informazioni, ti aiuteremo a gestire tutto senza errori. Ciao!